Come alcuni di voi sanno, l'estate ho la fortuna di vivere diversi mesi in questa terra meravigliosa che la Sardegna e in particolare mi trovo tra mucche e pecore in una zona molto selvaggia che si chiama la Nurra. L'altro giorno, pochi giorni fa, a seconda di quanto verrà pubblicato questo video, a Sassari si è svolta la discesa dei candelieri e ve ne voglio parlare da un punto di vista non tanto sassarese o sardo quanto da un punto di vista, diciamo così, di nuova coscienza. Ma prima di tutto guardate questo breve video. Grazie. Parlando col caro Lama Luigi, che è umbro ma che vive a Sassari da molti anni, trenta via o meno, e con la sua compagna Francesca che invece è sarda, mi spiegavano come questa tradizione bellissima, sia legata, in realtà sia nata addirittura a Pisa nel XIII secolo e sia stata importata in Sardegna e si compie al 14 agosto come voto alla Madonna perché tra le varie cose avrebbe liberato Sassari e una zona della Sardegna dalla peste. Ora mi piace moltissimo, come forse avete visto nel video, queste persone che con questi grandissimi ceri sulle spalle sono molto pesanti, sono anche pericolosi perché possono anche cadere su di loro, sulla gente, tra l'altro Sassari si riempie di persone, queste persone ballano con questo grande peso ed è una cosa bellissima. Ma c'è un'altra cosa che mi piace meno e sono convinto che chi anche assiste a queste cerimonie, a queste feste, a questa festa grande come si chiama di Sassari, non lo senta neanche più vero. In realtà pare che per essere ascoltati, amati dalla Madonna, da Dio, dalla vita, si debba soffrire, mi debba caricare di un grandissimo peso. Vedete, la parola, se cercate la radice della parola tradizione, troverete che deriva dalla parola latina tradere, che ha due significati. La perima, proprio trasmettere qualcosa dal passato, al presente, a noi, ed è molto bello. Una cosa molto bella che spero sia trasmessa nella nuova coscienza è proprio questo ballo leggero mentre ho un carico pesante addosso. È una cosa molto bella che spero che faccia parte della tradizione e che si trasmetta anime sempre più pronte a raccoglierlo, no? L'altro significato però della parola tradizione, tradere dal latino, è tradire. Perché tradire cosa? Lo dico così, lo ripeto. L'idea, tradire l'idea che la vita mi ami così come sono e l'idea che invece per essere amato e ascoltato devo farmi un carico enorme, devo soffrire, devo essere quasi schiacciato da un grande peso. Ora togliamolo dai candilieri, che è una festa, una tradizione bellissima, e chiediamoci, è possibile che inconsciamente io sia soggetto a questa immagine? C'è l'idea che essere amato, essere ascoltato da Dio, dagli altri, dal mio compagno, dai miei amici, da qualcuno, dalla vita, Dio debba soffrire. Questo non è il tradimento dell'idea che io sono già degno di amore, che io non debba essere schiacciato per essere ascoltato e amato, e io già mi merito di essere ascoltato e amato. Così, se lo vediamo in una bella festa di Sassare, è una cosa molto nobile, no? Che speriamo che duri anche nei secoli e che ci venga da tradere, ci trasmetta questo senso di festa, di leggerezza, di ballare sotto un grande peso, no? Gandhi diceva vivere non è aspettare che passi la pioggia, ma imparare a danzare mentre piove, no? Così io spero che questo sia il tradere che ci venga trasmesso di danzare mentre abbiamo un peso grande sulle spalle, cioè mentre piove. Però attenzione, c'è anche il tradimento. Il tradimento è illudere le persone che, per essere amati da Dio, dalla Madonna, dalla vita, scusate se lo ripeto, ma lo considero molto importante, io debba caricarmi di pesi, di sofferenza. Ora, per favore, portalo nelle relazioni. Ti è mai successo nelle relazioni di pensare che se l'altro ti vede che sei schiacciato, diciamo così, tra virgolette, dall'amore, che sei così sofferente per l'altra persona, davvero tu ami? E non è questo il tradimento del vero amore, cari amici, non tanto dell'altra persona, ma è il tradimento della nostra vera natura, cioè di essere già degni di essere amati. Cari amici, possa la tradizione trasmetterci cose belle, ma possa non portarci al tradimento della nostra vera natura. Possa la nostra anima essere consapevole di essere già degna di essere ascoltata e amata, senza doversi caricare, senza dover essere schiacciato, senza dover soffrire. Un abbraccio con amore. Grazie. Grazie.